Ancora Mitroulong, penetrazione mano sinistra, le vinte fade away di Mitroulong. Festisce il pallone Nes Mitroulong, grandissima palla. Il blocco di Gabriel, pronto il cambio di Benjus, pronto allora un altro blocco per muovere di nuovo la difesa, ci riprova Mitroulong. Parte con l'ultima azione del primo tempo, la palla ce l'ha Brescia che parte dal più 9 Mitroulong che riesce ancora una volta. Questa per Brescia, scambiano Mitroulong e della valle, ancora i chilometri di della valle, poi l'alzata di Mitroulong. 5-1, ma spazio per Mitroulong che non approfitta, preferisce ricominciare. Palla al palleggio aperto, batte! Un gioco al vetro sbagliato, vuole correre Brescia con Mitroulong già dall'altra parte. Virata su Treyer, Leianca vince. Il posto veramente bravo. Gabriel a chiamar palla e invece fa tutto da solo. Doppia cifra, 16-6. L'attacco di Mitroulong, passo laterale, tripla di Mitroulong ed eccola a segno. E' un'altra parte. Gliveni! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Altro gioco a due. Splendido pallone alzato. Adesso con Brescia sul più uno. Mitro Longa. Prova il dentale dall'alco.